Eccoci con Mr. Brunetti, sicuramente prevale la delusione dopo un gol arrivato quando ormai la vittoria sembrava portata in mano. Molto, delusione tanta. Sinceramente siamo stati ingenui dall'inizio del secondo tempo, prima ad approcciare un secondo tempo sottotone. E poi purtroppo un nostro errore ci ha costato un giocatore e giocando in dieci noi ci siamo troppo chiusi e alla fine prendere il gol così stupidamente sempre per l'errore nostro ci rimane male. Dopo aver fatto un primo tempo secondo me ad alto livello dove il risultato potrebbe essere più largo. Merito alla squadra avversaria che ci ha creduto prima alla fine, è un ottimo gol parigi. Secondo me due punti persi, però andiamo avanti e pronti subito per la prossima settimana. Rimane comunque l'ottimo approccio e nel primo tempo avete dimostrato che se giocate come sapete fare ce n'è per pochi insomma. La mia squadra è questa, se loro pensano a fare la partita ad alti livelli, ad alta intensità possiamo dire la nostra, divertirci e ripeto, cali di tensione purtroppo ci possono stare ma non così, sinceramente. Si può ripetere l'ottimo campionato lo scorso anno o ancora è presto per pensarci? Pensiamo partita dopo partita ma sono sicuro che faremo molto bene durante il campionato. Grazie mille mister. Arrivederci.